Potenziare l'organico della neuropsichiatria e aprire i centri di urni e le case protette per disabili fisici e psichici. L'ennesima richiesta della situazione H è stata indirizzata al sindaco Domenico Messinese, all'assessore ai servizi sociali Licia Bela, all'assessore al bilancio Fabrizio Morello, al presidente del consiglio comunale Alessandra Cia, al direttore generale dell'ASP2 di Caltanissetta Carmelo Iacono e al dirigente del servizio di neuropsichiatria di Gela Francesco Lauria. In più di un'occasione, sostengono il presidente dell'associazione H, Maria Concetta Maganugo, ed il consulente legale Paolo Capici, gli utenti interessati si sono rivolti costantemente all'associazione lamentando i lunghi tempi di attesa per le visite di controlli di routine, sia per i servizi di neuropsichiatria che per quelli dell'unità valutazione geriatrica. Risulterebbe, tra l'altro, che rispetto alla pianta organica solo la metà dei specialisti viene impiegata nei presidi di via Madonna della Rosario e presso il servizio di diagnosi e cura dell'azienda ospedaliera di Gela, causando così serie disagi all'utenza che ha bisogno di assistenza. Per l'associazione H, anche la pessima organizzazione delle strutture residenziali provoca danni all'utenza che necessita di cure e attenzioni. In tanti, rimarcano Maganugo e Capici, si fossilizzano nelle case famiglia e non trovano alcuno serio sbocco di integrazione sociale, causa anche l'assoluta assenza di centri diurni, impedendo così l'ingresso di altri utenti, ascrivibili quasi certamente a distorsioni ed errori di bilancio. Si continuano a sperperare milioni di euro, alimentando solo ed esclusivamente gli stessi canali e non si pensa ad una vera turnazione e integrazione dei soggetti con l'apertura di centri diurni e case protette. Chi di competenza, ribadisce l'associazione H, deve adoperarsi affinché in tempi brevi i servizi vengano resi efficienti con l'incremento delle unità previste dalla normativa vigente e venga attuato un programma di turnover secondo le giuste necessità di ogni utente. L'associazione H, inoltre, chiede un incontro urgente con le parti interessate al fine di evitare ulteriori disagi e sprechi che potrebbero causare segnalazioni alla Corte dei Conti e alla Procura.